La giornata di oggi collega l'idea della befana, della scopa e della pulizia, perché la pulizia è legata al tema del degrado e dell'abbandono in cui versa questo stupendo tratto del Tevere che attraversa Roma. L'obiettivo è far crescere una sensibilità che dalla base salga verso le istituzioni, quindi superi gli ostacoli che impediscono degli interventi organici e sistemici e delle progettualità complessive che ridanno dignità a una parte importante del territorio, perché la frequentazione del cittadino è già una forma di affrancamento dal degrado. Un po' di innalzamento del fiume dopo otto mesi di siccità chiaramente ha costretto a vedere tutto insieme quello che forse viene giù normalmente lungo un mese. Noi dopo otto mesi ci siamo spaventati perché abbiamo visto un ammasso che purtroppo ha fiumicino. È arrivato l'inenarrabile. Sono scesi al momento 12 o 15 frigoriferi da bar grandi, dei gelati. Se un navigante che sia nel fiume che sia a mare può essere realmente molto molto pericoloso. C'è tanto da fare, veramente tanto, da tutti i punti di vista, sia in senso di promozione, sia in senso di eliminazione del degrado, di recupero.